ben ritrovati a questa nuova puntata di target quest'oggi vi proponiamo un interessante focus sulla terza età target obiettivo l'informazione può accadere nel corso della vita di trovarsi ad avere una ridotta autonomia nella quotidianità e nella gestione delle proprie incombenze quotidiane un amministratore di sostegno è la figura ideale per il supporto e il sostegno dei soggetti non autosufficienti nel prossimo contributo conosciamo ads vicenza realtà dalla lunga esperienza per quanto riguarda la gestione di questa figura affiancare giuridicamente le persone che per effetto di una patologia fisica o psichica si trovano nell'impossibilità di provvedere anche in via temporanea ai propri interessi è il ruolo dell'amministratore di sostegno figura introdotta con la legge numero 9 del 6 gennaio 2004 e gestita da ads vicenza realtà sociale forte di un'esperienza quasi ventennale nel settore e di un interessante consenso ricevuto da parte di quanti si sono avvalsi e si stanno avvalendo della sua indiscussa professionalità si potranno trovare specialisti nella nomine gestione di quella che una valida opportunità per sostenere chi affetto da problematiche nell'affrontare problemi quotidiani oppure straordinari come acquistare vendere affittare un appartamento investire somme di denaro o assumere una badante oltre a garantire un'elevata professionalità ads vicenza presenta diversi punti di forza per esempio l'essere sempre disponibili sette giorni su sette ad assecondare o supportare sia telefonicamente che via mail qualsiasi problema dubbi o altro che la famiglia del soggetto interessato dovesse avere mai bisogno il costo applicato è nella consapevolezza che spesso la famiglia coinvolta oltre a doversi prontamente attivare per far nominare l'amministratore di sostegno si scontra con le sempre più reali quanto attuali difficoltà economiche la possibilità di perfezionare il ricorso anche per via telematica qualora ci si dovesse trovare lontani dallo studio di ads vicenza o nella difficoltà di assentarsi dal lavoro come spesso avviene basta infatti chiamare seguire le indicazioni infine l'eccellenza dal contenuto altamente sociale in quanto ads vicenza mette a disposizione la sua storica esperienza professionalità ad un costo estremamente vantaggioso per quelli interessati a far nominare un amministratore di sostegno che saranno indirizzati da comuni case di riposo realtà simili associazioni quali aido e fidas ovviamente lo studio ads vicenza non si limita al mero ricorso ma supporta l'amministratore di sostegno durante la sua importante funzione anche nella predisposizione o consegna di inventario iniziale dell'annuale rendiconto di eventuali istanze va ricordato inoltre che nel caso in famiglia ci fosse un minore oggetto di determinate problematiche per far nominare un amministratore di sostegno non serve attendere il compimento del suo diciottesimo anno ma anzi proprio per non perdere tempo a volte prezioso il ricorso può essere perfezionato dopo il compimento del suo diciottesimo compleanno per saperne di più ads vicenza è a disposizione tramite contatto telefonico o telematico il buon riposo ed il relax è risaputo sono ottimi alleati per il benessere e la longevità un buon materasso un'ottima rete ortopedica un comodo cuscino o una poltrona motorizzata possono migliorare notevolmente la qualità di vita andiamo a vedere che cosa ci propone a riguardo dormex azienda leader nel settore dormex sin dal 1960 al vostro fianco per garantirvi il miglior riposo possibile grazie ai loro prodotti made in italy di produzione propria i materassi proposti da dormex sono completamente sfoderabili ideali per i soggetti allergici la cover può essere lavata fino a 60 gradi in lavatrice garantendo così massima igiene e pulizia inoltre tutti i materiali utilizzati sono analergici per garantire il massimo comfort presso i loro punti vendita potete trovare un'ampia scelta di materassi in memory foam a molle tradizionali molle insacchettate e schiumati acquistabili sia in misura standard che tailor made su misura sono disponibili inoltre materassi rinforzati per pesi importanti per aggiungere ulteriore comfort al vostro riposo troverete anche un'ampia gamma di copri materassi sanitari e topper in memory foam da applicare a qualsiasi materasso tutti sfoderabili lavabili e analergici da dormex potrete trovare non solo materassi domestici tradizionali ma anche forniture per le vostre gite fuori porta materassi specifici per barche camper e roulotte di qualsiasi forma e misura non esiste riposo perfetto senza un'ampia gamma di cuscini anatomici per ogni esigenza bassi medi e alti gli ultimi molto difficili da reperire disponibile anche una selezione di cuscini cervicali per alleviare i maggiori fastidi ad accompagnare il vostro materasso trovate anche reti con dog in legno reti a motore reti elettriche con alzatesta e alzapiedi e reti ammortizzate per il benessere della schiena ideali per chi soffre di dolori alle spalle e alle cervicali la quasi totalità degli articoli proposti da dormex sono classificati come dispositivo medico rendendo così possibile la detrazione fiscale del 19 per cento della vostra spesa inoltre sono previste agevolazioni sull'iva per le persone diversamente abili ex legge 104 dormex veste anche la vostra camera da letto con bellissimi e funzionali letti con essenza contenitore personalizzabili nei colori e i materiali anch'essi completamente sfoderabili e lavabili impossibile non citare un altro dei loro prodotti di punta le poltrone relax a due motori con alzatesta e alzapiedi personalizzabili anche con meccanismo alza persona per coadiuvarvi nei vostri spostamenti quotidiani tutte le poltrone sono foderate con tessuti antimacchia per renderle pratiche e sempre pulite su tutti i prodotti sono possibili pagamenti rateali personalizzati a partire da 3 fino a 48 mesi per poter garantire a tutti l'opportunità di regalarsi un nuovo presidio per il benessere i fratelli gaetano michele e vincenzo vi aspettano presso i loro punti vendita dormex di vicenza e torri di quartesolo per poter esaudire tutte le vostre esigenze di riposo vi presentiamo ora la clinica dentale berica un team di giovani professionisti all'avanguardia che vi attende per esaudire tutte le vostre esigenze di cura dentale e protesica quando si parla di benessere della persona non si può trascurare quello dentale fondamentale non solo a livello di salute un bel sorriso dona sicurezza è la nostra miglior presentazione e il team di clinica berica dentale è un esperto nel creare sorrisi tanto perfetti esteticamente quanto totalmente spontanei e naturali dovuti dalla soddisfazione del lavoro eseguito berica dentale uno studio nato da un'idea mia e del mio socio dottor andrea salmaso nel 2019 siamo arrivati a distanza di due anni ad essere una struttura complessa con dieci professionisti ognuno dedicato per la sua area di specializzazione inserita all'interno di un centro medico clinica berica dentale segue il paziente a 360 gradi specializzandosi dai bisogni dei più piccoli fino ad arrivare a quelli più complessi in particolare per la parte chirurgica il team si fa portavoce di un intervento che regala un sorriso nuovo in poche ore berica dentale siamo specializzati nell'implantologia a carico immediato grazie al quale ai nostri pazienti riusciamo ad inserire degli impianti eseguire le impronte ed in poche ore riusciamo a consegnare un'arcata di 12 denti fissi sono pazienti di una certa età che magari sono stanchi di portare la protesi mobile la dentiera oppure sono pazienti che hanno qualche dente traballante perché sono affetti da parodontito più orrea che dir si voglia questi interventi di implantologia li eseguiamo in collaborazione con uno specialista in anestesia viene eseguita appunto una sedazione cosciente in berica dentale noi visitiamo dalle 100 alle 120 persone nuove a ogni mese per noi appunto è routine è semplice lavoro di tutti i giorni con pochi dolori ci rendiamo conto che è un cambio un miglioramento della vita nei nostri pazienti dato che il paziente sorride con i nuovi denti con gli occhi ci ringrazia via messaggio ed è una cosa che a noi fa molto piacere insomma la prevenzione nell'ambito dentale rimane un caposaldo fondamentale tante volte viene ostacolata dalla stessa paura di affrontare una visita nessun problema clinica l'america dentale vi farà passare qualsiasi tipo di ansia il 30 per cento della popolazione soffre di odontofobia andiamo a prevenirla ad esempio con il protossido di azoto che è una metodica di sedazione cosciente dove il paziente intraprende qualsiasi tipo di cura dentale inalando questa miscela di ossigeno e protossido di azoto che serve a rilassare il paziente e a affrontare meglio qualsiasi tipo di intervento non ha nessuna controindicazione si usa dai bambini dal piccolo paziente fino alle riabilitazioni complesse il paziente ha la percezione di essere seguito non solo dal punto di vista delle sue necessità dentali ma anche dal punto di vista personale a portare nuove tecnologie nuove innovazioni sia tecniche sia cliniche consente di seguire ancora meglio il paziente dare sempre il massimo insomma che la tecnologia e la formazione può offrire allo stato attuale un esempio che possiamo fare la presenza dello scanner intraorale che supera le vecchie impronte in gesso clinica berica dentale a montecchio in via leonardo da vinci 37 per un servizio che ti farà sorridere di nuovo uno dei maggiori problemi della terza età ma non solo è il calo dell'udito il quale talvolta porta spesso all'isolamento e ad un forte disagio a livello psicofisico e sociale conosciamo il centro acustico ecos che propone numerose soluzioni per prevenire o risolvere questo fastidioso problema il centro acustico etico che ha al centro la persona e il suo benessere uditivo è il centro acustico ecos in realtà diretta dal dottore andrea barcaro audioprotesista con 25 anni di esperienza e il cui obiettivo è quello di offrire proprio la massima qualità dell'ascolto quindi chi si rivolge a voi vive proprio un'esperienza unica di ascolto ma attraverso quali prodotti quali servizi qui al centro acustico ecos garantiamo sempre l'ultimo ritrovato tecnologico quindi analizziamo anche sul mercato le varie offerte tecnologiche che offrono le varie aziende produttrici di apparecchi acustici attualmente ci sono molte interessanti novità sia per quanto riguarda gli apparecchi interni sia per quanto riguarda ad esempio gli apparecchi esterni ci vuole fare qualche esempio nel dettaglio ormai da qualche anno presso il centro acustico ecos applichiamo quasi esclusivamente apparecchi acustici ricaricabili perciò svincoliamo le persone dall'acquisto delle batterie classiche usa e getta e inoltre gli apparecchi acustici ricaricabili sono presenti sia negli apparecchi interni sia negli apparecchi esterni gli apparecchi interni naturalmente in questo momento qui vanno per la maggiore perché si può usarli ecco senza incorrere nei fastidiosi problemi della mascherina ecco togliendo la mascherina con l'apparecchiatura esterna può succedere ecco che l'apparecchio si tolga dall'orecchio mentre con l'apparecchio interno ricaricabile questo problema viene risolto qual è quindi il percorso che segue chi si rivolge a voi quali test ad esempio effettua prevediamo un test tonale quindi un test fatto con i suoni a varie frequenze e questo ci indica la quantità del calo uditivo mentre poi effettueremo anche un test vocale quindi con delle liste di parole e questo invece ci serve per capire la qualità dell'ascolto questi sono degli indicatori per poter regolare e quindi riuscire ad avere un'applicazione nel miglior modo centro acustico ecos propone inoltre servizio a domicilio per test gratuito dell'udito prova gratuita fino ad un mese degli apparecchi assistenza e riparazione di tutte le marche modelli di apparecchi acustici batterie prodotti pulizia quali figure professionali sono presenti qui al centro acustico ecos presso le nostre sedi quindi a chiampo ad arzignano e nei due centri medici perso i quali collaboriamo a l'antea di chiampo e il cms di villaga siamo presenti io e la dottoressa valeria norettini la mia collaboratrice e presso appunto questi centri medici e nei tre centri acustici eseguiremo le varie prove per applicare al meglio gli apparecchi acustici naturalmente per avere maggiori informazioni c'è il sito www.ecoscentroacustico.it centro acustico ecos il piacere di sentire per tornare a sorridere ed eccoci a conclusione di questa puntata di target che potrete rivedere insieme a tutte le altre sui siti tvavicenza.it e telechiara.it nella sezione approfondimento vi ringrazio per la vostra gentile e consueta attenzione vi do appuntamento al prossimo speciale ciao ciao